Parla di un viaggio mentale non stanno dei problemi in tutti i giorni perché se non puoi fare un viaggio fisico perché lavori e non hai da fare l'unico modo per evadere è fare un viaggio mentale e è un viaggio mentale, è un viaggio mentale, è un viaggio mentale la cora sulla mia pelle, raspira il sogno fino alle stelle brucia le cellule nel cervello, ha nevi i sensi di orientamento te trasporta la realtà via di qua non conta dove, ma chi si insieme a me lascia i problemi e fuggi via con me non serve il capo, sono ancora l'anima Sospiro i battini nel coperto, trascino il sogno qui sopra il letto venendo i tuoi organi dentro la mente taccio le trame dentro la mente te le trasporta la realtà via di qua non conta dove, ma chi si insieme a me lascia i problemi e fuggi via con me non serve il capo, soltanto l'anima e troverai felicità dentro di noi in profondità te trasporta te trasporta te trasporta Grazie.